Una produzione Luximmedia per la regia di Antonella Grassia. Bartolo Longo, Il Rosario e la Carità. Non so se questo quadro vada bene. Se la Madonna vi ha condotto qui? Credo che voglia che lo prendiate. Io vorrei fare qualcosa di bello per i bambini di questo paese. La legge la conoscete soltanto voi avvocati, non i contadini e i debitori. Me l'hai portata via. Io l'amavo. Io sono convinto che i figli dei carcerati diventino delinquenti se non gli si dà loro altra possibilità.